Salve a tutti ragazzi, sono Kianigmark e questo è un nuovo video sul canale dello Shogunato italiano e siamo sempre qui su Total War Shogun 2 con un nuovo episodio dovrebbe essere l'episodio 24 se non vado errato, se non sbaglio e siamo al turno 100, quindi il centesimo turno dove ci siamo lasciati la volta scorsa vi ricordo di lasciare un mi piace per arrivare a quota 40 per il prossimo episodio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di invitare gli amici a vedere questa serie se può interessare loro e non c'è altro da aggiungere, di andare a vedere anche le altre serie, esatto, questo manca, le altre serie del canale e passiamo verso il centunesimo turno uh, eccola, Chioto, volevo vedere Chioto come era messa e che altro qua, vabbè, ci sabotano, ci saccheggiano e di andare a mettere mi piace alla pagina Facebook per avere un feedback più effettivo, più feedbackoso allora, ce l'avevamo lasciati che mancava solo un turno praticamente per esterminare la ritosa ah, qua ci bloccano il porto, tocca e novità che cosa strana, eh, qua stiamo veramente iniziando a perdere soldi ok, come niente questi me li devo rivedere bene dopo riesco a... l'hanno già debellata? altra rivolta incitamento fallito, questa non è una buona cosa ok corrompi accampamento, non abbiamo abbastanza soldi per farlo sì, esattamente, quindi vi dicevo andate su Facebook per mettere mi piace e fatemi sapere sempre se c'è una serie alternativa ai Total War e agli strategici che vorreste avere io ci metterò un po' per leggere questo vostro feedback perché oggi dovrebbe essere mercoledì, se non sbaglio cioè, per voi che state vedendo il video è mercoledì per me è mercoledì sempre però quello scorso quello passato quello che è una settimana fa per voi adesso allora, svelochiamo qua tutto perché mi avete veramente rotto le scatole voi qua mi sa che ci battono stavolta, lo sapete? no, la rischiamo vittoria decisiva per poco eh, non riesco a tornare a bloccarli là qua mandiamo le navi a prendersi questo e quella che avevamo già mandato no, che scatole, che due si è bloccata proprio su su due perde uomini ragazzi, vabbè, rimarrete là, non vi vado a riparare sicuro come il sole questo allora, ok, adesso i soldi sono un po' tornati qua ci sono 2000 eserciti che mi state veramente scassando allora, vediamo un po' ah, qua, ok, non c'è più problemi di ordine pubblico ma facciamo comunque la missione soldi ne sto iniziando a perdere un po' tanti qua togliamo una nave dal reclutamento entra le fiscali normali vabbè, ci possiamo stare in realtà forse avete sentito suonare il campanello ma vabbè, non preoccupatevi qui attacchiamo uno attacchiamo due e attacchiamo tre li sterminano tutte e due questi esercii perché mi dà fastidio avere uomini che mi girano per i territori ciao ciao pure a voi questo chi è? il daimio? muorerà pure il daimio muorerà io ho sterminato il daimio non so quante volte e tornate ad Awa per adesso altrimenti dopo attaccheremo assolutamente chi c'è qua? sicuramente questo è sempre il daimio adesso ogni volta glielo uccido quindi piano piano sarà il daimio il daimio qua un missionario lo facciamo e ok questo è il turno 102 mi sa vediamo un attimo un po' ho il 101 mi sto confondendo un po' perché ne sto registrando veramente tanti uno dopo l'altro Acqua ha fatto un bel po' di eserciti perché sono preoccupatissimo che a breve ci dichiareranno guerra cioè lo shogun ci dichiarerà nemico sicuro guardate qua acclamato manca veramente poco e tra l'altro ci mancano solo nove province per il nostro obiettivo oh questa si è ribellata ribelli cristiani potrebbe essere un momento buono vediamo ci proviamo il turno dopo ci proviamo assolutamente a prenderla qui uno due e tre come guarnigione e basta perché ci dovremmo riuscire a difendere abbastanza bene sì decisamente potrebbe essere una cosa interessante ok allora allora vediamo che turno era che non mi ricordo 101 sì e passiamo verso il turno 102 che è poco che sto registrando penso sì 5 minuti saranno allora il microfono è carico qua ci riblocca il porto per la quinta millesima volta quinta millesima vabbè avete capito cosa intendo sabotaggio della bisca lì c'è tanto stanno facendo solo quello processore ha giustiziato chi aspetta allora lungibilanza in campo civile assolutamente visto che stiamo ricercando in quel ramo noi ok 11 turni sì buono nave costruita sempre la nostra fedele navetta qua logramento in alto mare dov'è? l'avevo visto eccolo qui quindi voi andate mamma mia che due scatole logramento in alto mare qualche soldo in più ci sta arrivando acquisito cotone qua sblocchiamo il porto perché mi avete veramente rotto le palle oh vi siete stati affondati che peccato ripara ok ninja nemico reso conto del furiere qua riusciamo a conquistarla vabbè noi la sediamo intanto no non voglio perdere l'esercito gratis quindi rimaniamo un po' lì per farla diciamo per farli uscire loro allo scoperto ah il missionario mi hanno preso mi hanno giustiziato il missionario no questa è una brutta cosa non si non si processano i missionari mamma mia che cattivi io solo incitato due rivolte in due turni allora scuderia qua tu vieni qua ad aumentare l'ordine pubblico qua posso reclutare adesso le cavallerie ma in realtà non è neanche così essenziale perché ce l'avevo qua per reclutarle ma comunque sblocchiamo le stalle dai cavalli da guerra perché qua posso fare solo quelle di arcieri in realtà quindi non è neanche così essenziale è così essenziale è così buona questa situazione qua riusciamo ad attaccarli in questo turno proviamo riusciamo a passare no turno dopo qui capirai è il macello perché non ho unità a difendere uno a due e ce l'ho un mezzuke o lo posso reclutare un mezzuke ah là mi hanno sabotato una struttura che adesso ho da riparare che è qua pure qua ah qua non c'ho ah ho già il troppi mezzuke mi sa vero perché questo me l'hanno boh ragazzi non ho soldi quanto costa ripararla 1176 serio togliamo dalla quota di costruzione qua una nave stanno iniziando a diventare complicato perché ho veramente troppi eserciti da mantenere adesso ma appena sterminiamo queste non ci fanno non ci rompono più le scatole qui sul shikoku non avremo più problemi allora diplomazia tanto se io aumento cambia qualcosa facciamo così per questo turno assolutamente proviamo a far pace con qualcuno con Yonma che magari non ci bloccano più i porti pagamenti quanto vi posso io vi pago tutto quello che ho vediamo no niente Yikko Ikki invece pace con loro inaccettabile allora andatevene a quel paese shokunato shikaga lo voglio rendere vassallo sarebbe il top renderlo vassallo se avessi soldi infiniti si potrebbe fare io offro milioni e milioni qua sta daimyo allora a 60 anni loro lo shokun tutti qua guardate che esercito hanno porca miseria sarà un problema quando dovremmo attaccare dovrò attaccare con due eserciti per forza uno solo non basterà passiamo il turno che dovrò abbassare le tasse il turno dopo assolutamente Yonma ci riblocca nel porto per la non so quante volte è successo ah qua ci attaccano i ribelli e gli urakami ci aiutano ottima cosa ho fatto bene ad aspettare abbiamo perso pure pochi uomini divisione del regno porca miseria siamo vittime di una cospirazione sono stato definito nemico dello stato dobbiamo stare allerta e prepararci per la guerra ecco qui sapevo che sarebbe successo ne ero sicuro allora facciamo una cosa sembrerà una follia ma questo rendiamo vassallo anche se succederà il macello adesso che l'ho reso vassallo mamma mia il giappone comincia ad minare la nostra potenza dice che lo shakon stia cercando supporto intanto voglio spazzare il nostro clan fama è il clan leggendario lo sapevamo benissimo allora adesso sembra una follia quella che ho fatto si scontento in crescita ovunque ma adesso abbassiamo le tasse e si dovrebbe risolvere quasi ovunque ok tranne qua perché ovviamente è successo allora questi dobbiamo sterminarli ma a questo turno non riesco ad attaccare quindi torniamo dentro aspettate uno e due fuori voi dentro così qua non si ribellano e fortifichiamoci abbiamo i soldi per farlo oddio i guadagni al turno prossimo dobbiamo sistemare un po' di cose ragazzi assolutamente voi andate qua voi andate qua qua questi li mandiamo via e con questi torniamo immediatamente ad Aki perché adesso avendo questo vassallo non è che sarà così forte ma o ci dichiara subito guerra anche lui o comunque ci fa da cuscinetto prima degli urakami perché allora vediamo qua che succede sarà veramente un macello sarà olè allora ho fatto bene aumentare le tasse per questo turno però devo sbloccare immediatamente i porti se no andiamo in deficit finanziario e cerchiamo di eliminare pure i kikkoiki qua no giochiamola sulla difensiva giochiamola perché se ci attaccano e perdiamo poi lì non so più come difendere i porti allora qua eh non so se riuscirò più a reclutare navi da commerciare in hanbam per i prossimi turni l'ascesa di un nuovo clan i kikawa che abbiamo fatto diventare i nostri vassalli qui sono tentato di fortificarla ma tanto qua non avrò problemi i problemi saranno qua i problemi li avremo su questa parte del territorio adesso e nei prossimi turni quindi vediamo un attimo divisione del regno di nuovo è successo il macello è successo famiglia e consiglio oh questo generale ah ecco mi avete consigliato anche questa cosa di farlo diventare il commissario dei rifornimenti adesso possiamo farlo dai ok è diventato il commissario dei rifornimenti non so dove sia lui dov'è? me lo dice qua? aspetta lo cerchiamo subito lo cerchiamo mi sa che è qui lui? no sì era lui eccolo qua il commissario dei rifornimenti e potrebbe essere utile di tenerlo qua perché non si sa mai il mezzucra è salito il livello stavo sempre aspettando per fare no non lo so perché non l'ho fatto salire vediamo un attimo sorveglianze di eserciti no facciamo sorveglianze di eserciti potrebbe essere utile allora eh che l'hanno incontrato chi? chi cava? eh li ho creati io li ho fatti diventare vabbè vabbè passalli sto registrando da un pochetto adesso però un altro turno dovrei riuscire a farlo allora vediamo qua sperando che questa flotta ce la tolgano dalle palle così posso attaccare e prendere quest'isola sarebbe non sarebbe male e ragazzi sto iniziando a preoccuparmi perché volevo essere un po' meglio difeso diciamo quando sarebbe successo questo che è successo adesso quindi boh speriamo bene speriamo bene non sono difeso troppo troppo bene io eh meglio di quello che si potrebbe cioè che in molte situazioni succede però ok diamo chi ci dichiarà guerra adesso a questo turno Yurakami Yurakami entrano in guerra con Ikikawa allora conviene entrare subito in guerra con Yurakami per forza perché tanto ci dichiarano guerra anche dopo Yurakami quindi in fianco del mio alleato ok era sicuro io chiederò aiuto ai miei alleati anzi non lo chiedo perché se lo chiedo sicuro lo rifiutano e mi rompo subito l'alleanza con loro quindi non chiedo aiuto e loro neanche è stato infatti affiancato allora aspetta cioè si è stato affiancato ma eravamo già in guerra con gli altri clan ok incursioni incursioni la situazione è molto meno brutta di quello che mi aspettavo qua devo attaccare anche se è inverno ragazzi per forza perché se no porca miseria dobbiamo passare questo maledetto uno due uno due qua tornate tornate qua adesso ok non è proprio idiliaca la situazione ma vieni qua se vi esento va bene per questo turno posso anche non esentarvi che mi servono quei soldi posso reclutarlo con Metsuke no ancora no perché ovviamente no mi avete sabotato qualcosa vabbè vediamo un attimo esercito nemico è ritirata ok incursioni ninja 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 dichiarazione di guerra takeda ok fatevi guerra tra di voi allora intanto per me va benissimo ikikawa devono cercare di difenderci per un turno almeno qua torniamo e ci riusciamo a reintegrare reintegrare nave le navi qua ancora non le ho reclutate qui com'è la situation vedo stiamo attenti a delle possibili navi che potrebbero sbarcare quello si quello mi preoccuperebbe abbastanza no adesso siamo a posto dai allora ragazzi io per oggi vi dico che è tutto lo so che vi lascio molto così in sospeso ma la parte bella deve arrivare adesso succederà veramente il macello perché ci mancano soltanto e tre otto otto territori tra cui i chioto quindi ce ne mancano diciamo sette e per arrivarci qua li faremo velocissimi perché uno due tre ce ne sono più di otto da qui al a chioto e ci manca pure awashi quindi si ce la faremo diciamo che secondo me entro trenta turni no forse trenta no quaranta turni sicuro abbiamo finito quindi fate una media di più o meno quanto mi dura un turno a livello di video e niente ragazzi io veramente sono abbastanza stanco perché ne ho registrati parecchi di seguito tipo venti ventuno ventidue ventidre ventiquattro quindi ne ho registrati quattro di seguito e sono un po' stanco e quindi vi lascio qui direi che per oggi è tutto vi ricordo di lasciare un mi piace se la serie vi sta piacendo di condividere il video ai vostri amici a cui potrebbe interessare di venirci a trovare sulla pagina facebook perché così ci riusciamo a essere più vicini e in contatto e di farmi sapere cosa ne pensare di questa serie quindi ragazzi per oggi è tutto sempre domani su show con il italiano alle 15 e 30 ci vedremo e bella ragazzi ciao ciao